Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Urla e disperazione per l'estremo difensore dello Spezia che si è portato anche le mani sul volto. Immediati i soccorsi in campo con Dragoschi che ha rimediato danni pesanti. I replay sono emblematici. Torsione innaturale della caviglia destra per il classe 1997, rimasta al momento del contatto sotto il peso del corpo. L'immagine è terribile, con lo stesso portiere disperato. Il portiere polacco dello Spezia ha lasciato il campo in barella al 43esimo minuto del primo tempo della sfida contro il Verona. Dragoschi si è lasciato andare alle lacrime, i giocatori hanno provato a consolarlo. Una delusione inimmaginabile per Dragoschi che sarà costretto certamente a saltare i mondiali. Proprio lui, che era uno degli italiani pronto a volare in Qatar con la Polonia, con gli altri due colleghi tutti militanti in Serie A, Scesni e Skorupski. Un sogno spezzato proprio all'ultima curva, quando il traguardo era vicino.